Io sono liberale convinta, penso che una donna abbia il diritto di decidere rispetto a questa scelta, che non è mai una scelta facile, è sempre una scelta dolorosa e che lascia cicatrici. Però ogni caso è un caso a parte e ogni donna deve poter decidere in totale coscienza e consapevolezza di quello che sta facendo. Penso che a queste donne, visto che abbiamo tanto conquistato questo diritto, questo diritto non debba essere negato. Ci sono molti medici che sono obiettori di coscienza, però anche questo fa parte del diritto della persona, non è che si può impedire a un medico di non essere un obiettore. Quindi come il territorio nazionale e il Servizio Sanitario Nazionale offre anche questa possibilità, io penso che in questo momento chi ne dica la sinistra o qualcuno che deve utilizzare in modo strumentale questo argomento, il Servizio Sanitario Nazionale offre alle donne questa possibilità ed è garantita su tutto il territorio. Non è nei vostri piani, quindi la voce ci aspetta? Assolutamente no.